ma smettere ha pure scammato l'ultima sentito l'anima sentito lì ma smettere ha pure scammato l'ultimo scammato l'ultimo tutto il mondo ma smettere ha un uomo sensato ma puramente a noi di piacere si è ripartito l'unità d'oro dai Demetrio cazzo si è ripartito l'unità d'oro non ci credo tutte minchiate fai sa tu ricordo io fai sa sicuro è ripartito l'unità d'oro un po' si gioca il Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci hanno chiesto di fare un minuto di silenzio per Pedro. Sì. Grazie a tutti. Tu fai i filmatini e conti su di me come il pezzo migliore. Io potrei a un certo punto anche richiedere la Palma d'Oro per il miglior attore. Tu e Gianni c'entri? Ci manca la Palma d'Oro per il miglior attore. Ci manca la Palma d'Oro per il miglior attore. È sprecata. È sprecata. Buongiorno. Buongiorno. Palma d'Oro per il miglior attore. Buongiorno. 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 sicurezza, che cazzo è questa roba io sono andato, mi sono messo a metto così sono andato lì le... le... lui ha detto che c'è una vita di faccia e a gelo è dura, ce la giochiamo ce la giochiamo succede eh, dove? è già la seconda volta che stai avvisci esatto, cosa fa con quella estenza? adesso la fa sparire va, va Ma tu non immagini che parto, non immaginarlo benissimo, ha dovuto andare via uno, ma si deve andare via uno, ma si può! La giochiamo? Tutte la stessa cosa? Eh minchia, ce la giochiamo! Il capitano ha detto solo una cosa, solo questa cosa! L'impianto, non è un ambiente buon! Molto carino! Sano! Abbiamo una settantina di stronzi che mi guardavamo così! Ma aspetta, è una grisce! Non mi fai troppo! Vai dentro a Mesa! Non riusciamo a andare! Non riusciamo a andare! Non riusciamo a andare! Sì, ormai sono fuori da Mesa! Sì, ormai sono fuori da Mesa! Sì, ormai sono fuori da Mesa! Ehi, ormai sono fuori da Mesa! Sì, ormai sono fuori da Mesa! Sì, ormai sono qui! Sì, ehi, ormai sono fuori da Mesa! O fa un grande ruolo da Mesa! Ehi, o mace sono fuori da Mesa! O fa un grande ruolo! Ehi, la. Salete! Ehi, lì, è! Ma hai! Grazie